Adesso per il termo ogni turno è importante, ovviamente se magari vincevamo sabato su Tirol già stavamo un po' meglio, perché come abbiamo visto la classifica è molto corta, poi con tutti i risultati, tutti i pareggi c'era molto comoda quella vittoria, però sicuramente questa è una partita importante, dobbiamo comunque cercare di vincere, assolutamente in casa, quindi dobbiamo fare la partita per vincere, ma come siamo andati comunque lì a su Tirol, perché noi non siamo andati per perdere, ovviamente per pareggiare, abbiamo incanalato la partita nel migliore dei modi, poi purtroppo, ripeto, per una disattenzione che si poteva evitare, quello è il peccato. Le partite facili non ce ne sono, quindi noi dobbiamo pensare che, dobbiamo ragionare come se fossimo gli ultimi della classe e andare in campo come ogni partita, come fosse una finale di Champions, dobbiamo avere questo pensiero, perché se pensiamo ad altro, secondo me, facciamo male. Dobbiamo, di ripeto, dobbiamo migliorare tanto, però dobbiamo uscire sicuramente, prima usciamo dalle zone basse meglio è, perché comunque dopo si può giocare anche forse mentalmente più tranquilli e quello può essere il valore giunto, bravissimo, e quindi dobbiamo cercare di uscire prima possibile magari dalle zone basse, poi magari, ripeto, partita dopo partita cercare di fare sempre meglio e di arrivare il più in alto possibile.